Ok, io vado per prima. Strano questo profumo. Vediamo. Cosa c'era? Oh no, che schifo! No, la cipolla non la mangia. Jill, mangia? Vabbè, che amici siete? Ok, fa nulla, devo mangiare. No, ma è disgustoso. Ho un'aletta cattiva. Sì, e poi io piango. Cosa, il mio trucco? Mi dispiace. Sì, Alex, vai tu a mangia. Ok, vediamo. Non apre. Stupida casaforte, oh che male. Dai, provo io. Grazie mille. Twix è una bella cosa. Io adoro il cioccolato. Cosa? Eh, forse condividi con una signorina, ma certo, ecco a te, prendi. Anche io posso far così. Guarda che bella che sono, condividi con me. E io, guarda, ti prenderò con le braccia. Ragazze, è bello, però a me piace per di più il cioccolato e non lo voglio condividere con nessuno. E va bene. Vediamo cosa c'è nella mia cassaforte. Non posso neanche capire. Vediamo. Wow. Cos'è? Una pistola magica? Cosa farà? C'è scritto i two. Ma forse moltiplica qualcosa. Non capisco. Cosa ho sparato? Ma perché? E adesso ne ho due. Non farlo mai più. Scusa, non capivo come lavora. E a me questo piace. Ecco, posso fare di più. Due è poco. Allora, ne faccio tanti. Così va meglio. E voi ragazze, non è rimasto nulla. Questo è il mio cioccolato. Ma cosa sei? E io so cosa inventarmi. Io faccio così. No, che schifo. No, non così. Sì, e poi così un'altra coppia. Bene. E cosa vuole fare? Ragazzi, io ho un po' per voi. Mangiate questa. Oh, che bello. E io ho mangiato una. Anche voi ce la farete. Mi dispiace. Sì, però è stata una bella idea. Sì, veramente bello. Tre e un bello. Bazzi cinque. Uno, due, tre, tre. Uno, due. Tre. Io apro. Vediamo cosa c'è all'interno. Sì, che bello. Oh, sì. Ed è così bello. È colorato. Anche io voglio un gelato del genere. Ehi, ragazzi. Ok. Vediamo. Oh, cosa no. Che schifo. È cibo per i ragazzi. Eh, beh, spero di non ammettare. È terribile. Io non mangerò una confezione di questo. Dai, su, Alex. Guarda cosa hai tu. Sì, bene. Vediamo cosa ho io. Cosa? Una penna magica. Sì, però non capisco cosa c'è di magico. Forse devo insegnare qualcosa. Per esempio... Un gelato. Proprio quello che volevo io. E adesso disegno. Adesso faccio il contorno. E poi il gelato. E poi lo coloro con i colori diversi. Severà molto bello. Oh, sì. Questa è una penna magica che mi ha fatto un vero gelato. Bello. E a me serve. Ok. Voglio fare... Sì. Un essere a cui piacerà il cibo per i ragazzi. Disegnerò un gatto colorato. Vediamo se riuscirò a farlo come ha fatto Alex. Fatto? Wow. Questo è un vero gattino. Mangia, piccolino. Questo è per te. Che bravo che sono. Ragazzi, io vado per prima. Ok, bene. Vediamo cosa ho. Cosa? I marshmallow più buoni. Capisco. Voglio mangiarli. E posso, per favore, anche per noi? Certo che no. Io mangio tutto quanto. Ah, sì. Ecco. Forse possiamo rubare. Non ci provate neanche. Ah, no, la condivido con nessuno. Io li mangio tutti quanti contemporaneamente. E voi cosa state qui? Aprite la vostra porta. Sì, va bene. Vediamo. Io cos'ho? Spero qualcosa di buono. No, non questo. È un cocktail col peperoncino. Mi dispiace, Alex. Dai, ti dura. Va bene, ci provo. È disgustoso. No, è piccante. Ehi, non ti risicarti il peperoncino. Ragazzi, ma perché non avete pietà di me? Salvatevi adesso. Bruggerò tutto. Questo sì, fuoco mi serve. Vabbè, meno male che ci sono rimasti pochi marshmallow. Allora ne metto su uno speedino. Alex, dai su. Così va meglio. Così saranno molto più buoni. Eh? Perché saranno fritti. Sì, ce l'ho fatta. È ottimo. Povero, va a fuoco. Alex, tieni. Questo è per te. Grazie mille. Oh, meno male che è finita. E adesso vediamo cosa c'è qui. Oh, no. Mi risuccia. Poveri miei clienti. Oh, eccoli. Che bello. Rella, Mervis, Agni, Salve. Sono così felice di vedervi. Per favore, prendete le vostre cose. Non entrate mai più in una cassaforte magica che non conoscete. Arrivederci. E la chiave dovrebbe essere buttata via. Di modo che non so altra posso entrare. Wow, è bellissimo. Adoro questo posto. Ok, arriva la nostra fontana in cioccolato. Siete pronti a competere per questa volta? Vi avverto che non sarà facile. Dovete mettere le mani dietro la schiena. Complimenti. Siete pronti e andiamo. Ok, buona fortuna. Ok, per prima cosa dobbiamo... Sì, aprire i pinarelli. Ma... Come ce l'avete fatto? Ma perché? Dai, su. Vi raggiungo subito. Ok, mi calo abbastanza bene. Vediamo come sta mira. Le basi sono già pronti. Ma non mi piace affatto. C'è qualcosa che non va. Dai. Ah, so. Devo usare il piorello. Avete visto con quanta abilità ho tolto il tappo? Ma è un'ottima idea. Così posso farlo anch'io? Cos'è stato? Perché Jennifer è caduta? Ma io volevo togliere il copergio e il mio piorello. E beh, sono caduta. Mi è di nuovo un passo avanti a me. Sto facendo una bellissima fontana. Cosa devo fare? Ah, non lo so. Così. Questa bimba mi aiuta. Sta per stare un gironino. Guarda cosa ci ho fatto. Ma perché? Jennifer, come hai potuto? Kate, ma perché stai ridendo? Ma è così divertente. Divertente, dici? Non credo proprio. Mia, ma perché mi spruzzi la vernice addosso? Questo sì che è divertente. E posso anche schizzare sopra il tuo disegno. Jennifer, ma come stai guardando? Guarda. Non credo che... Ci sia ancora il tempo. Ragazzi, il tempo è scaduto. Ok, vediamo. Bene, bene, vediamo. Cosa avete qui? Ma mi ha rovinato il disegno. Spero che non sarebbe piaciuto. Vabbè, temo che anche il mio lavoro non sarà dei migliori. Tutto grazie a Jennifer. Dai ragazzi, ma mi fate arrabbiare. Eh, sono sicura che il mio vi piacerà. Onestamente, non c'è molto da scegliere. Ok, Jennifer hai vinto tu. Prendi la fontana. Wow, è così grande. Invidiosi di me siete, però, Denzi. Voglio provare il cioccolato. Che buono che... Dai, non dobbiamo limitarci a guardare. Dobbiamo rubare il cioccolato. Sbrighiamoci prima che se la bevo tutta sola. Ed è brillante, mia. È gustoso. Ma... Dove è finito il mio cioccolato? Abbiamo deciso di... Darci la mano. Ma non è giusto. Vi presento il vostro nuovo premio. Non è molto carino. Sì, è un vero angelo. Dai, vieni qui, amico mio. Ma che attrazione di sorpresa è questa? Dobbiamo davvero dipingere la cacca? Mia, sei così intelligente. Brava, andate. Ah, sì, non ho un bel aspetto. Non voglio soltamente disegnarla, ma ci provo. Non ci sono comunque altre opzioni. Inoltre non credo che sarà difficile. Ok, sono rimasta indietro. Dobbiamo recuperarla presto. Penso che disegnare con i piedi sia meglio che disegnare con la bocca. Ma dove viene fuori questa puzza? Ah, che schifo, mia. Ottimo. Ho già eliminato il rivale. Ora posso dedicarmi alla pittura. Le mie possibilità di non incontrare quella brutta cosa aumentano di secondo in secondo. È sufficiente un piccolo sforzo. Dai, ecco. Mi sto cavando bene. Dai, su, evviva. Finalmente ce l'ho fatta. Ecco, sono un passo alla vittoria. Andiamo. No, ho perso il penarello. Ma dove è finito? Vabbè, dai. Prendo un altro colore. Vediamo. Ma non ci riesco. Ma che razza di punzione è questa? Wow, mira. È quasi finito. Il tempo sta per scadere. Fermatevi. Dov'è il tuo lavoro? Oh no, non ho avuto il tempo di far nulla. Io invece... Dai, su, sono preparata. Va, forse alla fine mi piace il mio. Ma così, così, vediamo. Ci ho provato con tutte le mie forze. Si vede. Ben fatto, mia. Che ora è? Credo di aver dormito troppo. Wow. È ora di mostrare il lavoro? Dai, non ti preoccupare. Ho già capito tutto. Ho perso. Ok. Oh no, non è la colpa mia. Ero senza emozione. Stavo male. Dai, ma devo proprio mangiarla. Sembra disgustosa. Non riesco neanche ad immaginare. Ci sa pure. Vabbè, lo provo a leccare. Però dai, è dolce. Non è così male. È pasta di cioccolato. Sono pronta a mangiarla dalla mattina da sera. È delizioso. Splendido. Ma cosa stai facendo? Smilicela. Non sapete quanto sia buona. Sto per vomitare. Meglio non donarsi. Volete provare? Ecco che arriva. Un altro premio. È così bello. Sofficio e adorabile. Dai, si ezi qui, piccolo. Dovremmo aspettare un po' prima che la ragazze facciano il loro lavoro. Tra l'altro, li dipingeranno. Direttamente sull'iso. Andiamo. Oh, sarà mio. Vedrete. Siamo fatte una per l'altra. Ecco, penso al trucco. L'amico mi si addica molto bene. Non ho bisogno di una macchina bianca. Preferisco usare quella blu. Guardate come è bella. Ecco fatto. Ora passo agli occhi. Ci sto davvero bene. Spero che sia bene anche a me. Non avete comunque alcune possibilità di vincere. Rilassatevi. Disegnerò guardandomi allo specchio. È molto facile. Nessuno può battermi. Beh, ho già fatto la maggior parte del mio disegno. Jennifer, come sta? Non so cosa verrà fuori, ma mi piace molto il processo. Anch'io. ci puoi scommettere perché stai usando uno specchio. È ingiusto. Ma perché mi hai spinto in mia? Guarda cosa sta succedendo. Non è giusto. Questo è certo. Dobbiamo darle una lezione. Così non infrangerà più le regole. Kate, ci hai costretto a farlo. Mi dispiace. No, smettetele. Mia, per favore, il mio disegno. No, ma perché? Ci ho lavorato molto. Almeno non infrangerai più le regole. Sembra che Mia sia già sicura della sua vittoria. Non mi piace. Ehi, Mia, posso distrarsi. Credo che il tuo disegno sia un po' fuori luogo. Ma non preoccuparti, vittorio io. Lo sistemiamo subito. Che succede? Cosa sta facendo? Come sta adesso? Meglio. Molto meglio. È completamente diverso. Ok, vedo che tutti sono pronti. È fantastico, perché il tempo sta per scadere. Dai, su. Ma, com'è? Dai, non guardare a questo disegno. Questo è ancora peggio. Ma, davvero? Ma Jennifer ha risolto il problema. Mi ha ingannato. Non capisco cosa stia succedendo là. Sembra che non abbiamo molto scelto. Jennifer ha vinto. Dai, prendilo. E vai, ce l'ho fatto. Che bello che sei. Vieni qui, amore mio. Perché voglio sorruntire? Jennifer, tu sei allergica. Meglio così. Possiamo tenere il gattino. Non sta molto bene. dai, su, vai a riposare. Wow, un sacco di salsa. Avete già capito? Con cose dipingerete. È arrivato il momento di mostrarvi cosa. Un enorme pesce crudo. Non credo che nessuno le voglia. Ok, dovete fare delle vostre peggio. Le salse sono tutte vostre. Buona fortuna. Sono pronta a combattere fino all'ultima. Non sei l'unica mia. Ma che succede? Jennifer, guarda, ma mi stai giottando la sua matura in faccia. Mi dispiace, non me l'aspettavo. Questo è semplicemente scandaloso. Spero di non essere interrotto da nessun altro di voi. È ora di continuare a disegnare. Vediamo cosa abbiamo qui. Sì, ketchup. Sembra molto bello. Un tocco di classe sulla carta. Penso che userò questo. Sì, mi piace di più il giallo. Considerò a farlo. Guardate come bello. È giusto così. Tra l'altro è un vero piacere dipingere con questo colore. È così bello. Peccato che la salsa sia finita così in fretta. Devo prenderne un po'. Vediamo. Ah, una senefe. Perfetta. È una tonalità un po' diversa, ma mi piace comunque. E io ci metto il ketchup in mezzo. È un'ottima combinazione di colore. Non posso assolutamente permettere che qualcuno mi dica che è brutta. Ah, Mila, già, un disegno è finito. Sì, non mi resta molto da fare gli ultimi ritocchi. A quanto pare sono rimasta indietro. Devo pensare a qualcosa. Ecco, così. Dipingerò con tutte le dita. Ma che profumino delizioso. Non posso farne a meno di provare. Ottimo. Non riesco a staccarmi. Voglio ancora e ancora. Mi sta venendo un grande appetito. Cosa sta facendo Jennifer? Ma non doveva far questo. Ecco, è finito. Oh no, il sugo è avanzato. È caduto proprio sopra il mio disegno. dannazione. Mi dispiace dirvelo, ma il tempo sta per scadere. Ecco. Fermatevi. Buono. Oh no, non ho disegnato nulla. Come ho potuto. Questo è un fallimento. il disegno di me è fantastico. Ecco, sono completamente fregata. Ma non ancora. Scusate, ma le salse sono rovesciate sul mio disegno. Prima che qualcuno se ne accorga, dobbiamo cambiare i disegni. Vediamo cosa hanno gli altri. Ecco il mio pesce. Non è bellissimo. Difficile da discutere. Ah, cosa ne pensi del mio disegno? È un foglio bianco. Ma non può essere. No, Jennifer, hai scompiato i nostri disegni. Non c'è modo di provarlo ora, quindi mangiamia. Buon appetito. Questo odore mi fa star male. Questa buzza è terribile. Eh, non c'è niente da fare. Deve mangiare. Ma io so cosa farò. Posso cucinare questo pesce. Così sarà molto più buono. Vediamo se è facile o meno. questo è certo. Mi dispiace, Jennifer, è stato un incidente ma onestamente hai avuto quello che ti imbaritavi. Dai, smettere di parlare, friggiamo il mio pesce come si deve. Wow, che croce deliziosa. Voglio proprio provarlo. Anch'io voglio provarlo. troppo tardi. Io ho procurato questo pesce e quindi io ve lo mangio. Che tenero che è. Mi piace. Eh, ma dove state andando, ragazze? Io voglio andare per primo. Oh, il gelato è rotondo quindi mi va bene. Cominciamo da quello che c'è dentro. Oh, che bello che è. E adesso bevo con il latte sarà ancora più buono. Oh, che fortunato che è. ragazze, guardate, ho gli occhiali con gli Oreo. Sì, sarebbe stato divertente se fossero commestibili tutti gli occhiali. Eh, dove sono gli Oreo? Eh, Britney, ridammi. Queste ore sono miei e tu devi aprire e vedere cos'hai. Ma cosa? È il peperoncino rosso. Forse facciamo lo scambio. Per prima cosa mi chiamo cosa? Un sandwich. ma cos'è sta puzza? Oh, devo guardare. Cosa? Il pesce? No, non lo mangio. No, lo mangerai. Che crudele che siete. Ok, prova. È incredibile perché lo mangio. Basta. Eh, stucca a te. Ok. è solamente un peperoncino. Solamente un peperoncino. Eh, sto bene. Non è piccante. Mi preoccupavo per nulla. Posso mangiarla tranquillamente. non è fuoco. Oh, cosa devo fare? Io? Andiamo? Alex, mi serve il latte. Oh, mi sta meglio. Oh, il latte mi aiuta. Vabbè, era mio. E tu cosa stai facendo? Ecco, proprio Kelly sta arrivando. No, Kelly. No, non serve. Non capisco. Non sento. Oh, man. Ops. È quello che puoi dire? No, mi oro. Cosa? Sono bagnati. Kelly, hai rovinato tutto. È interessante. Vediamo che cibo triangolare mi aspetta. Ok. Io ho gli Skittles. E io ho gli Uba Bubba. Sembrano molto belli. Vabbè, posso prendere tutto. E adesso guardate cosa faccio. Ecco, vedete cosa ho fatto. Io posso mangiare. È commessibile. Anche noi possiamo provare un po'. Volete provare? E no, non ve lo do. È solamente mio. Io posso mangiare il cibo quadrato. E adesso posso fare le bolle. Vabbè, non prendermi in giro. E adesso ce la farò. Eh, cos'è stata? Ma forse hai perso qualcosa. Ecco la tua ciunga. Cosa? Farei la bolla? No, forse voi... No, grazie. Non volete? Non volete? Adesso faccio te. Eh, ok. Oh, è buono. Bingo! Io adesso farò... Guardate. Cosa farò? Mi faccio vedere come si mangiano gli Skittles. Oh, è buono. Oh, è buono. Oh, è buono. E come faccio a mangiare? Ehi, hai aiuto io. Guarda. Guarda, ho una piuma. Ritino. Guarda, ho gli Skittles. È bello, però io posso mangiare. Io ho tante cose qui. Oh, che buono. Dai, Britney, mangia. Sì, solamente una carota. Va bene, andiamo. Ma perché ridete? Eh, fa bene. Buona la carota. A me piace. Ah, cosa mi succede? Eh, ciao a tutti. Io sono un coniglio Britney. Ecco, dov'è? Ma cosa? Sto sono scherzo. Dai. Io vado per prima. Oh, che bello. Io parto da loro. Quello che è rotondo è tutto mio. Ah, sì, è vero. Me ne lo ricordo. Io ci do, sì, tutte le caramelle. Uno, due, tre, quattro. Ti basta? Ma perché le Alecate non li mangio adesso? Eccoci, sta bene a non mangiarli. E io non li mangio. Ah, che buono che è. Britney, non sapevo che tu mangiassi così tanto. Siete assolutamente gelosi. Ecco. Sì, dai, su. Alex, guarda cos'ho. Sì. Ah, la pizza. Che bello. Ho fame. No, no, il cibo triangolare è mio. Eh, questa pizza io la mangio. Eh, adesso ti farò vedere io. Io prendo le mie pizza triangolare. No, è rotonda. No. Ragazzi, ma potete stare più attenti? No, io non la condivido la pizza. Ecco, il pizzazzino è mio. Guarda, cos'ho fatto con i miei capelli. Oh, il cibo pezzo è caduto. Eh, a cosa siamo pari? Vediamo cos'ho. Ma adesso, ecco, guarda. A te. Questa è per la pizza. Grazie, Alex. No, cos'è? La pioggia di nonolini. Ok. Ora lancio questa. È molto buona. Ah, posso cominciare? Ah, cosa c'è? Ah, sono... Ah, ma il cioccolato con... Sì, con l'ancello. Adesso posso mangiare. Buon appetito. Oh, guarda. Ah, io ho... Sì, le unche cioccolatose. Molto buone. No, Alex, non chiedere. Questo cioccolato è solamente mio. Scusa. Vado io. Cosa? No. Il formaggio puzzolente. Che schifo. Ragazzi, volete? Io non lo mangerò. Devi. È tuo. Ma è così puzzolente. Come faccio a mangiarlo? Io provo. Ah, che buono. No, Britney. Abbiamo una sfida. E tu lo mangi tutto. Io non posso. Volete che io mangi il formaggio? Ecco, prendete questo. Oh, che puzza. Ok, devo prendere la molletta. Ah, bella idea. Sto male. Però non puzza più. Per cui continuiamo. Oh, io ho i Pringles. Alex, me ne dai? No. Oh, che avido. Bingo. Ah, sono com'è a darsi una lezione. Alex? Guarda, c'è un ormai vero e gommoso così. Ma non c'è nessuno. Hai visto che i tuoi Pringles sono piccanti? No, non li mangio. E io li mangio. A me piace il piccante. Ah, ti piace il piccante? Ma se no, con me mi prendi in giro. Non chiederlo neanche. Forse non devo mangiarlo così. Ecco, cosa è la torre? Deve essere... Ogni torre deve cadere. Cos'hai fatto? E vabbè. Io ho un'idea. Faccio una costruzione così Kelly non potrà rovinarla. Guarda. Ecco. Vedi? Ce l'ho fatta. E' bello. Eh, sì. Io ho fatto un cerchio con le patatine. Questa è la figura più bella. Adesso mangerò le patatine solo così. Hai finito. Così veloce. Vabbè, l'ultimo pezzo. Ed ecco. Oh, che buono. Oh, che buono. acum? Sì. Bene. Okio. Grazie a tutti.